Ben trovati a Tribu Talk, tra la noiosità del posto fisso, così come ha detto in alcune trasmissioni televisive Mario Monti, la stabilità o perlomeno il non movimento all'interno dei partiti e il grosso movimento che in Puglia e nel Salento da qui ai prossimi giorni avverrà nel centrodestra complessivamente e per i congressi del Popolo delle Libertà e per le primarie del prossimo 26 febbraio per individuare il candidato del centrodestra alle amministrative del 6 maggio, insomma grande movimento tra i partiti. La scorsa settimana un telespettatore, forse provocatoriamente, tentò di affermare che la nostra informazione, sempre equidistante, libera, autonoma dai partiti politici, poteva eventualmente ledere uno dei due candidati alle primarie, ossia il nostro editore che ha deciso di scendere in campo, insomma entrare nel lagone politico e mia risposta fu a quel telespettatore, bene, nessuno intende far ciò assolutamente, non sarebbe una parcondicio, sarebbe una parcondicio all'inverso da parte nostra, però comunico attraverso la telecamera al Presidente Paolo Pagliaro in quanto candidato alle primarie del centrodestra che deve, come dire, virgoletto, subire il trattamento di tutti i politici, ossia avere forza e coraggio di venire a TribuTalk e rispondere a voi telespettatori. Devo dire che questa che sembrava a me una provocazione invece è stata sposata e oggi è con noi Paolo Pagliaro, sposata con entusiasmo perché insomma... Buongiorno, finalmente mi sono meritata la possibilità di essere ospite da te, da lei, direttore o Giuseppe? Io ai miei ospiti do sempre del lei per non far sentire degli ospettatori una cosa de famiglia, insomma. Allora diamoci del lei anche perché in alcune occasioni ti chiamo direttore, alcune volte ti chiamo Giuseppe. Perfetto, va bene così. Io invece la devo chiamare candidato o Presidente? Qualcuno malignamente potrebbe leggere qualcosa in questa mia affermazione. La risposta per me è molto chiara, piacere Paolo. Senta, a proposito 0832 24 4237 per le telefonate, mi dicono che ci sono già alcuni telespettatori in attesa, ma come sempre faccio a TribuTalk qualche battuta me la riservo inizialmente per poi dare lo spazio da casa. Si sente un uomo coerente? Beh, io della coerenza ho fatto la mia ragione di vita. La parola d'onore, i valori assoluti, la lealtà, l'affidabilità, per cui assolutamente sì. Echeggia da quando lei ha deciso di sfidare il sindaco uscente per le primarie del 26 che un anno e mezzo circa fa ha affermato mai sarò candidato in politica, la nostra idea è l'idea della regione Salento. Allora, perché ha cambiato idea, in quanto ora è un candidato e sarà protagonista delle amministrative del 6 maggio, ora candidato alle primarie e se per questa scelta politica deve mettere da parte la regione Salento per opportunità politiche? Assolutamente nessuna voglia di mettere a parte la battaglia principale della mia iniziativa politica e sempre sarà la stella polare del mio agire l'idea di costituire la regione Salento, perché credo che sia la battaglia delle battaglie, la madre di tutte le battaglie per questo territorio. Rimarrà la nostra stella polare e la nostra iniziativa che oggi ci porta a partecipare alle competizioni elettorali nasce da questa esigenza, di portare all'interno dell'istituzione, quest'idea, perché siamo convinti che questa è un'idea vincente, utile, senza nessuna controindicazione e siamo oltretutto convinti del fatto che la regione Salento prima o poi si riuscirà a realizzare. Ma perché è stato così categorico? Mai sarò candidato un anno e mezzo fa e poi ora di fatto è candidato alle primarie? Perché sono fatto così, sono sincero, allora non ci pensavo minimamente, intanto parliamo di un anno e mezzo fa, noi avevamo appena costituito il movimento, era il 9 settembre del 2010 e in quella riunione, è bene comunque che si riprenda, non dico integralmente il mio discorso, ma almeno il passaggio chiave, noi pensavamo che questa idea potesse suscitare l'interesse di tutti i partiti, di tutte le forze politiche, perché poi in fondo chiedevamo di poter esprimerci noi salentini su una questione come dire sentita, un sentimento diffuso e se un'idea voglio dire che ha una storia, per cui ho detto, lanciamo questa idea, siamo convinti che sia un'idea valida, i partiti la seconderanno perché non stiamo chiedendo altro che una consultazione popolare, un referendum, cioè il massimo dell'espressione democratica. Iniziamo a ricevere attacchi di tutti i tipi, da parte di tutti i partiti e ci sembrò quasi… In una seconda fase però, perché in una prima fase c'era un po' di attesa da parte dei partiti. No, noi subimo immediatamente degli attacchi, dei due esponenti principali della politica pugliese, Vendola ci bollò subito come secessionisti, come se questa fosse un'idea anacronistica, leghista e Fitto disse che era un'idea che non aveva nessun senso, è come andare in un'autostrada in senso inverso in una giornata di esodo. Bene o male hanno detto Pagliaro come Bossi. Sì, anche questa è un'altra sciocchezza, si è detto di tutto di più, sicuramente in quel momento percepimmo che i partiti ci vedevano come un'invasione di campo, il nostro movimento che nasce dalla società civile, nessuno aveva avuto esperienze dirette in politica, nacque in una torrida giornata di agosto, il 5 agosto del 2010, questo nostro movimento a Brindisi, presso il notaio Braccio e iniziamo subito e immediatamente a chiedere alle amministrazioni comunali di deliberare a favore di un referendum consultivo. Ci accorgemmo dell'ostilità da parte dei partiti e io lanciai un messaggio per rassicurare i partiti che non avevamo nessuna voglia di essere degli invasori nel loro campo, ma volevamo solo e esclusivamente far partecipare la gente a un referendum. Se non fossi stato in buona fede sicuramente non mi sarei mai sognato di dire una cosa se avessi avuto un altro fine, ero sincero e non avevo nessuna voglia di candidarmi un bel niente. Poi sono successe tante cose in questo anno e mezzo, la nostra azione politica è cresciuta giorno dopo giorno, il movimento si è radicato in tutto il territorio della regione Salento, intesa come le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ci sono state una serie di assemblee partecipate dove all'unanimità e democraticamente i nostri militanti hanno deciso che dobbiamo continuare questa battaglia dopo la bocciatura della Corte di Cassazione e si è andati avanti, il nostro progetto si è consolidato, si è costruito su una serie di valori straordinari, è diventato anche un riferimento nazionale con un progetto che sta riscuotendo attenzione che quello dell'Italia e delle 30 regioni con l'abolizione delle province, l'avevamo detto noi e di tutti gli enti inutili l'avevamo detto noi si fermi un attimo, perché poi vendola subito scartato, sia il centro-sinistra allargato, il sinistra ecologia e libertà, invece poi si opta per una scelta delle primarie in un'aggregazione più ampia del centro-destra, per cui fitto sì. Siamo arrivati subito all'attualità, noi abbiamo fatto questo percorso, abbiamo deciso che era arrivato il momento di inserire il virus della nostra idea all'interno delle istituzioni perché urlare alla luna non serve a nulla, abbiamo aperto al confronto a tutte le forze politiche, a tutti i partiti, abbiamo detto dialoghiamo, vorremmo che ci fossero alcune condizioni di partenza, l'abbiamo anche elencate in maniera molto chiara, apriamo a tutti, non abbiamo nessuno steccato ideologico da rispettare, crediamo che la nostra sia una battaglia localistica, territoriale, il Salento prima di tutto e ragioniamo. La sinistra, il centro-sinistra non ci ha concesso di discutere sulle nostre istanze o comunque dei nostri progetti, non soltanto per l'intero Salento ma in particolar modo per i comuni dove si andrà al voto, in questo caso Lecce città, ha chiuso le porte in maniera decisa alla società civile, il terzo polo invece ha dialogato con noi a lungo e abbiamo trovato con una serie di momenti di convergenza, il PDL umilmente, e ci tengo a sottolinearlo perché il PDL, parliamo comunque del partito di maggioranza relativa nel nostro paese, in particolar modo a Lecce città, almeno fino alle scorse elezioni, quello è il dato al quale dobbiamo fare riferimento, ha voluto instaurare un dialogo senza pregiudizi, senza chiusure e devo dire che si è parlato di politica, a me ha fatto molto piacere perché io sin dall'inizio ho detto più che parlare delle cose di come fare a vincere le elezioni, perché ho imparato a capire che la strategia, il tatticismo è importante, vorremmo parlare di cose concrete e abbiamo iniziato ad elencare le nostre questioni rilevanti, centrali per poter andare in alleanza, abbiamo trovato punti di contatto, di dialogo, ci sono alcune cose che ci avvicinano moltissimo, ci sono alcune cose che ci allontanano ma ci hanno concesso il dialogo, dopodiché abbiamo relazionato in assemblea sull'andamento delle interlocuzioni e l'assemblea all'unanimità e democratemente ha deciso, andiamo in coalizione del centro-destra, sfidiamo il sindaco Perrona alle primarie, eccoci qui. Quindi qualora dovesse andare tutto bene il primo obiettivo, il primo appuntamento è il referendum che non sarebbe ostacolato, almeno la scelta del Consiglio Comunale non sarebbe ostacolato dal PDL? La questione oggi si è un po' sviluppata rispetto al passato, il referendum diventa difficile riuscire a ottenerlo, perché poi la Corte Costituzionale, alla quale era stato sollevata la questione da parte della Corte di Cassazione… Sulla territorialità forse. Sì, perché poi è stata emanata una legge ordinaria del 70, anche qui ci sarebbe tanto da discutere, ci dice che l'intera regione dalla quale si vuole, come dire, riorganizzare, che deve partecipare a un referendum, per cui oggettivamente diventerebbe difficile. La nostra azione politica invece è finalizzata a una riforma infrastrutturale dello Stato. 30 regioni, 0 provincia. Per cui l'azione si sviluppa in termini più politici e, devo dire, sta ottenendo una grande attenzione. L'ex ministro Pagliarini ha sposato questa iniziativa e vuole diffonderla in tutta Italia, ma non solo, devo dire, anche nei ragionamenti col Terzo Polo, anche nei ragionamenti con il PDL, quest'idea dell'Italia delle 30 regioni, per cui c'è una riforma dell'architettura istituzionale del nostro paese, che oggi più che mai diventa attuale dopo l'abolizione delle province è un'idea che sta circolando, perché se vogliamo arrivare ad avere un federalismo funzionale bisogna riorganizzare e riequilibrare le regioni in tutta Italia. Aveva iniziato anche Berlusconi negli ultimi mesi del suo governo la ripresa, l'idea delle province, una possibile abolizione di gran parte di queste, anche se dal 1992 ad oggi ben 15 il potere politico complessivamente ne ha istituite nel nostro paese, chiusura netta invece da una parte del centro-sinistra, la parte più forte. Abbiamo due telefonate che dovrebbero anche la pubblicità. Non è proprio così, direttore, mi consenta, diceva qualcuno. Non usi troppo la dialettica berlusconiana che già dicono il Berlusconi del Salerno. Ah, questo è un altro mio problema, io con Berlusconi non ho niente a che vedere, proprio niente, non peraltro, non mi tingo i capelli, non uso i tacchi, ma al di là di questa battuta non è così, perché poi tutti i partiti si dicono favorevoli all'abolizione delle province, tutti prima o poi hanno presentato disegni di legge, raccolte firme ed altro, poi quando si tratta di mollare le poltrone, lì diventa un po' un problema, ecco perché io confido molto nel governo tecnico, nel governo Monti, per mettere finalmente un po' di ordine in questo sistema che non funziona. Ci sono troppi sprechi, troppi baracconi, enti inutili, è necessario lo snellimento dei costi e per farlo bisogna partire principalmente dal sistema del regionalismo e se avremo tempo posso anche dirle perché. Sentiamo le prime due telefonate, pronto?